Il libro che riguarda la spedizione di Ruffo, uno degli antenati di Ruffo, cioè il primo fu Pietro Ruffo, il figlio di Pietro Ruffo, Giordano Ruffo, è stato feudodario di Mignano, del castello di Mignano, nel 1330. Nel 1330, ed era marito di Odolina Chiaromonte, seconda moglie, quindi era Odolina Chiaromonte, tra l'altro anche Vito Nunziante, che guidava la marcia all'avanguardia, era il padre di Alessandro Nunziante, che è stato proprietario del castello di Mignano, ed essendo anche sindaco di Mignano per qualche tempo. Sì, più ne abbrotano di così, il castello non potrebbe essere. Queste sono le curiosità che ho avuto a dare.